Per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, la Giunta Comunale ha istituito il divieto di accesso e di circolazione sull'intero territorio cittadino nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 15 alle 18.30. Il dispositivo resterà in vigore fino al 31 dicembre, ad eccezione della rete autostradale nei tratti ricadenti nel territorio comunale e prevede l'istituzione di una domenica ecologica al mese. Dal 5 al 13 aprile tanti eventi in tutta Italia per la settimana della bellezza organizzata da Lega Ambiente. Napoli, tra le città simbolo dell'edizione 2014, promuove bike tour per la collina gentile e visite guidate nei weekend alle stazioni dell'arte della metropolitana. I tour in programma il 5 e 6 e il 12 e 13 sono gratuiti con partenza alle ore 11.00. Partiranno in autunno i lavori di manutenzione stradale di via Galileo Ferraris, via Brecce a San Terasmo, via Gianturco e via Nuova delle Brecce. L'importo degli interventi aggiudicati che si inseriscono nel grande progetto riqualificazione urbana area portuale Napoli-Est è di oltre 9 milioni di euro. Il completamento dei lavori, che interesseranno circa 5 chilometri di rete stradale, è previsto entro la fine del 2015. Fino a domenica 6 aprile torna a Napoli-Cioccoland, la grande fiera del cioccolato tanto attesa da cittadini e turisti. Quest'anno l'evento sarà allestito in via Partenope, dove stand, creazioni artigianali di cioccolato e gadget a tema animeranno il lungomare con un programma di eventi per adulti e bambini. Grazie a tutti.